Finalmente una prima buona notizia per i cittadini, oggi la Commissione Finanza della Camera ha approvato la mia proposta di abolizione del bollo auto per chi compra un'auto nuova. Ora auspico la più rapida calendarizzazione possibile in aula, spero con il sostegno di tutte le forze politiche affinché lo Stato smetta di trattare gli automobilisti come un bancomat.